Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Una volta il gioco preferito dai bambini era chi faceva arrivare la pipì più lontano. Si posizionavano allineati in piedi, la schiena ricurva all'indietro per spingere il pisellino più avanti possibile e via. Oggi sembra il gioco preferito dai politici erpini. Prendete il presidente della provincia Mimmo Gambacorta e il deputato grillino Carlo Sibilia. Sul sistema idrico alto calore, che fa acqua da tutte le parti, hanno ingaggiato una gara olimpionica che piscia meglio. A dire il vero, dentro la vescica Gambacorta ci ha messo il cervello e almeno la pipì l'ha allungata ragionando. Sibilia si è scatenato con le sue solite sparate iperboliche. Come sembra gli è andata male e se l'è fatta sulle scarpe. Forse è il proprio tempo che consulti l'urologo. No, no. Ahahahahha!